Ciao, mi chiamo Carlo, sono un insegnante di basso elettrico di Cuneo. In questo video andiamo ad imparare a ricavarci le note del basso sulla tastiera. Questo perché? Perché è importantissimo. Cerchiamo di staccarci da queste tab in cui pensiamo solo al numero. Noi dobbiamo pensare alla nota, perché poi se cambiano gli accordi, noi se sappiamo le note del basso riusciamo a cambiare e trovarcele facilmente. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appoggiarci a una cosa, io quando le insegno mi appoggio sempre alla tastiera del pianoforte. Tutti conosciamo le note, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I tasti bianchi, va bene? Da questi tasti bianchi, noi ogni tanto tra uno e l'altro, ad esempio tra do e re, abbiamo il tastino nero. Quasi sempre abbiamo il tastino nero in mezzo. Questo vuol dire che tra queste due note abbiamo un tasto che non suoniamo. Quindi se noi abbiamo il do al tasto 3, nella corda di là ad esempio, vogliamo andare a re, vediamo che abbiamo il tastino nero, quindi il do al tasto 3, il tastino nero sarà il tasto 4 e il re sarà il tasto 5, quindi la distanza si dice di un tono. Questo tastino nero andremo poi in un secondo momento a dargli un nome. Chiaramente potrà essere o un do un po' più alto, quindi do diesis, oppure un re un po' più basso, quindi re bemolle. Dipende armonicamente. Quindi adesso non preoccupiamoci. Se noi conosciamo le note sulla tastiera, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, poi quelle in mezzo ce le andiamo a ricavare, dimezzando praticamente il nostro lavoro di memorizzazione. Secondo me è abbastanza inutile pensare a studiare le note pensando do, sol, sol diesis, la, la diesis, si, do, do diesis, re, scala cromatica per intenderci, perché faremo solo un gran casino e non riusciamo a memorizzare o meno, diventa solo una cosa di memoria. Mentre invece anche visivamente, secondo me è più importante pensare sol, la, si, do. Poi la nota tra la e il si andrò a vederla e dargli un nome in un secondo momento. Ok? Quindi si parte dalle corde a vuoto, che quando accordiamo lo strumento e a, di, g, abbiamo le uniche note che teoricamente conosciamo, sono queste corde a vuoto, quindi mi, la, re e sol. Ok? Partiamo ad esempio dal la. Noi abbiamo la, teniamoci, stampiamo il pianoforte, le note, e teniamocelo davanti sul comodino quando studiamo. Abbiamo la che è zero, corda a vuoto. Quindi dobbiamo andare al si. Tra la e il si c'è il tastino nero? Si. Quindi saltiamo una nota, un tasto, e andiamo al tasto due. E qui c'è il si. Tra il si e il do c'è il tastino nero? No. Quindi questi si e do sono attaccati. Si e do. Diciamo, quando studiamo, quando ripassiamo, sempre le note. La. La si, tono. Quindi due tasti. Tastino nero c'è. Si, do, non c'è il tastino nero. Semi, tono. Si, do. Se riusciamo, cerchiamo anche il passo migliore, sarebbe anche quello di cantarci. Si, do. Dal do al re c'è il tastino nero, quindi abbiamo di nuovo due tasti. Re, mi, due tasti. Quindi siamo al tasto sette della corda di là. Mi fa di nuovo due note attaccate. Quindi il fa sarà attaccato al mi. Fa sol, due tasti. Sol la. Due tasti. E qua arriviamo in un punto importante del basso, cioè il tasto dodici. Il tasto dodici è quello che va a ripetere la mia corda vuoto. Quindi se io parto da là e là a zero, devo arrivare al tasto dodici che la nota sia di nuovo là. Ok? Questa qua è là all'ottava superiore. Da qui il basso si ripete. È più stretto, però le note sono le stesse. Fate aiutare anche dai pallini sulla tastiera. Anche questo. Occhio, mano, sono tutte cose che aiutano a memorizzare in fretta queste note. Poi, se tu lo fai su una corda, in realtà questa cosa qua ti serve anche sulle altre corde. Perché è vero che qua io ho Do e Re, però se sto studiando un'altra corda e sono a questo Do ad esempio, il passaggio Do-Re avrà la stessa distanza dal Do al Re, perché sono le stesse due note, quindi l'intervallo è lo stesso. Quindi io studiandolo su una corda, in realtà quando arrivo su un'altra corda e trovo la stessa nota, poi da lì in poi ho le stesse distanze e io me le ricavo pian pianino su un momento. Ok? Fallo su tutte le corde e fallo andate e ritorno. Attenzione che il ritorno è un po' più difficile perché tornare indietro ho sempre visto che è un pochettino più complesso. Ti assicuro che nel giro di un paio di settimane o anche meno riuscirai veramente ad avere le note molto più chiare sul basso e potrai andarti a ricavare suonando così delle canzoni semplici o andandoti a trovare gli accordi con scritto il siglato. Altra cosa importantissima sarà poi leggere il siglato, interpretarlo bene e andarci a cercare le note sulla tastiera per suonare il siglato delle canzoni. Ma questo sarà oggetto di un altro video. Grazie per aver passato questi minuti con me. Spero di esserti stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.